Ciao a tutti voi da Rosi, siamo ancora in vostra compagnia con la nostra vetrina e con Peugeot Citro & Retail Milano, ma oggi ci troviamo in un ambiente diverso, di solito ne parliamo solo a voce, invece oggi ci siamo trasferiti fisicamente ed è venuto naturalmente anche Alberto Guerritore, responsabile dell'usato. Ciao Alberto, a te. Ciao Rosi, un saluto a tutti, una breve introduzione dove ci troviamo, siamo a Steso San Giovanni in via Carducci, è il sito di Peugeot Milano, dove ci sono 8 vetture nuove, quindi presentiamo la nuova 308, i due SUV di grande successo, il nuovo 3008 e il nuovo 5008, 7 posti, inoltre abbiamo al primo piano un ampio disponibilità di vetture usate, selezionate per voi con Peugeot Occasioni, vetture aziendali, chilometri zero e dei dipendenti. Tutte le settimane abbiamo continui arrivi, ci sono tre ragazzi a vostra disposizione dal lunedì al sabato, per cui affrettatevi a venire qui a trovarci, come sempre numerosi. Adesso passo la parola ai ragazzi per la presentazione di alcune vetture selezionate per voi. Un saluto a tutti, sono Paolo Manni, iniziamo la nostra presentazione con le nostre vetture aziendali di servizio e private. Iniziamo con una Peugeot 308 1.6 Blue e HD 120 CV, la versione Allure, quindi la più accessoriata, immatricolata nel gennaio 2017, 26.600 km, viene proposta a 18.200 euro. Proseguiamo la nostra presentazione con una Citroen C5 Cross Tourer, 2.000 Blue e HD 180 CV, il cambio automatico, 6 rapporti, chilometri 40.180, immatricolata primo semestre 2015, la proponiamo a 19.800 euro. Sempre cassa Peugeot, abbiamo una bellissima 308 station wagon, motorizzazione benzina, 130 CV, con soli 16.900 km, del gennaio 2017, viene proposta a 18.200 euro. Sempre Peugeot 308, questa volta diesel 120 CV all'UR, 7.300 km, immatricolata a gennaio 2017 a 18.700 euro. Abbiamo poi un Peugeot 308 station wagon, 2.000 diesel Euro 6, 150 CV con cambio automatico a 6 rapporti, sempre la versione Allure, 50.200 km, immatricolata nel 2015 a 18.800 euro. Passiamo ora ad una bellissima Seat Ibiza 1.2 benzina, immatricolata nel 2017 con appena 8.000 km, viene proposta a 9.900 euro. Si passa ora in casa Fiat con una Panda 1.300 multijet 4x4 con 49.400 km, immatricolata nel primo semestre 2016, proposta a 14.900 euro. Ritorniamo in casa Peugeot con una 308 1.6 HD 110 CV, station wagon, la versione CL, con 109.200 km, immatricolata nel 2009 a 6.650 euro. Casa Chevrolet, la Cruze, immatricolata nel 2012 con 72.700 km, motorizzazione 2.000, turbodiesel, cambio automatico, 163 CV e viene proposta a 8.990 euro. Ritorniamo in casa Peugeot con una 308 station wagon 1.2 benzina, in 110 CV la versione Active, 64.800 km, immatricolata nel 2014 a 12.500 euro. Passiamo di nuovo a Chevrolet, la versione Lacetti, 2.000 turbodiesel, versione SX con 36.800 km, una vera occasione del gennaio 2009 a 5.690 euro. Si passa in casa Renault, una Gran Modus 1.500 turbodiesel, 68 CV, cambio automatico, 82.600 km, immatricolata nel 2010, la proponiamo a 6.890 euro. Ciao a tutti, anche da Andrea. Vi presento la nostra disponibilità per quanto riguarda delle vetture delle City Car, in particolare delle Citroen C1. Sono tutte vetture immatricolate a gennaio 2017 e si tratta del 1000 VT Fil 68 CV. L'allestimento comprende l'autoradio USB, il Bluetooth e i fari diurni a LED. Abbiamo varia disponibilità per quanto riguarda i colori e il prezzo è di 8.600 euro. Invece per chi preferisce il marchio Peugeot abbiamo disponibilità anche di Peugeot 108, sempre il 1000 VT Active con lo stesso allestimento, stesso equipaggiamento e il costo è sempre di 8.600 euro. I chilometri sono circa per queste vetture di 15.000. E ora vi presento le vetture più economiche d'occasione come questa Renault Clio del 2012 con 68.000 chilometri. È un 1.2 benzina 75 CV, 5 porti ed è una vettura adatta ai neopatentati con climatizzatore, fendinebbia e radio CD. E dalla Renault Clio proposta a 6.700 euro, ora passiamo invece a una Peugeot 207 del 2008, è il 1.4 benzina a 90 CV e in questo caso l'allestimento è l'XS. È una vettura a tre porte equipaggiata di sensori luce e pioggia automatiche, ha un clima automatico bizzono, cerchi in lega, fendinebbia ed è proposta a 4.500 euro. Un'altra vettura esposta nel nostro salone è questa Peugeot 206 del 2011, si tratta di un 1.100 benzina a 60 CV, è una vettura già benzina Euro 5 con 59.000 chilometri ed è esposta a 5.900 euro. Non abbiamo solo vetture del nostro brand ma anche di altri marchi come questa Opel Corsa, si tratta di un 1.200 benzina GPL 85 CV tre porte ed è il febbraio 2013 con 65.000 chilometri, in questo caso abbiamo i fendinebbia, radio CD, climatizzatori e in particolare questa macchina equipaggiata con gli interni in misto pelle ed è esposta a 7.300 euro. Passiamo invece a un'altra Peugeot, una Peugeot 207, è sempre il 1.400 benzina a 95 CV, in questo caso l'allestimento Energy Sport. È una macchina del 2009 con 79.000 chilometri, anche lei con il climatizzatore manuale, radio CD, servo sterzo, 6 airbag ed è una macchina esposta a 5.400 euro. Abbiamo in salone un'altra Opel Corsa, in questo caso è del 2012 e da 85.000 chilometri, è una macchina tenuta molto bene e come si può vedere è un tetto bicolor, quindi tetto nero con i cerchi in lega neri. È un 1.200 benzina a 85 CV e anche lei con il climatizzatore, radio CD, fendi nebbia e comandi al volante, esposta a 6.300 euro. Nel nostro salone sono presenti anche le vetture del marchio DS. In questo caso abbiamo la disponibilità di DS5, DS4 e DS3. Sono tutte vetture full optional, col cambio sia manuale che automatico, partendo da vetture con soli un anno di vita oppure chilometro zero, esposte come la DS5 a 24.700 euro, oppure passiamo da una DS4 crossback 1.600 120 CV manuale a 19.900 euro chilometro zero, oppure un usato con sempre il 1.600 120 CV sport chic a 19.500 euro del 2017 con soli 16.975 chilometri. Proseguiamo con le vetture multimarche. In questo caso abbiamo la disponibilità di due Mercedes classe B. Sono tutte e due vetture diesel col cambio automatico. In questo caso è un 1.800 diesel 110 CV premium del 2012 ed esposta a 15.900 euro. Invece da questa parte un 1.500 diesel 109 cavalli executive, cambio automatico ed esposta a 19.900 euro. Buongiorno a tutti da Max Perego, dalla Peugeot Milano. Sono qui per presentarvi una bellissima Volkswagen Tiguan 2.000 turbodiesel 140 cavalli, full optional, con cambio DSG, doppio tetto apribile, una vettura veramente bella, 88.000 chilometri a solo 17.900 euro. Poi abbiamo anche una bellissima Hyundai i X35, motorizzazione 2.000 turbodiesel 136 cavalli, allestimento Comfort, due ruote motrici, del 2012 con solo 72.000 chilometri a 13.900 euro. Poi passiamo a una Peugeot 3.800, quasi introvabili, 1.600 turbodiesel, blu HDI, 120 cavalli, allestimento Active del fine 2016, ha percorso solo 16.640 chilometri, vettura in pronta consegna a 24.900 euro. Poi passiamo a una bellissima Ford EcoSport, 1.500 TDCi, 90 cavalli, del 2014, vettura unico proprietario con 75.000 chilometri, vos l'ho già detto, a 12.800 euro. E poi passiamo a una carrellata di Peugeot 2008, il nostro best seller, sono tutte autovetture aziendali, quindi ho usato o dei dipendenti Peugeot o direttamente da noi per andare a casa. La prima è una versione 120 cavalli all'Uro, naturalmente 1.600 blu HDI, che è la nostra motorizzazione di punta, immatricolata nel 2016, non ci vedo, ha un prezzo di 17.500 euro. Altrimenti abbiamo una bellissima allestimento Black Mat, sempre 1.600 turbodiesel, aziendale, usata da noi questa, con 8.800 chilometri, in allestimento full optional, quindi con un grid controller, navigatore, sensore di parcheggio, cerchi in lega, una vettura ancora in garanzia della casa fino al 2019. Vi schiedete in Geneminga, vi presento delle 208, 1.600 turbodiesel, sempre blu HDI, 75 cavalli, dalla fine 2016 a partire da 12.600 euro. Naturalmente, come avrete visto, abbiamo un'ampia disponibilità di autovetture Peugeot e di tutte le marche, quindi vi aspettiamo, venite a trovarci e troveremo la macchina per voi. Grazie a tutti. Avete visto quante occasioni ci sono dedicate per voi, ne abbiamo tante altre in arrivo tutti i giorni, raggiungerci in via Carduce molto semplice, tramite la via le Fulvio Testi, oppure tramite l'autostrada alla Torino-Venezia, per cui vi aspettiamo come sempre numerosi, veniteci a trovare, grazie.